Ennesimo incidente stradale questa mattina in via dei Greci in direzione Fratte a Salerno. Da una primissima ricostruzione dei fatti al vaglio degli inquirenti, sembra che un'auto abbia travolto uno scooter guidato da un ragazzo. Nell'incidente il centauro, che forse era diretto a scuola, ha riportato ferite gravi. Immediati soccorsi, con un mezzo del 118 che ha condotto il paziente in ospedale. Per svolgere i rilievi del caso ed appurare la dinamica alla polizia locale. Protestano i residenti che rivendicano l'aumento di scontri, specie nelle prime ore del mattino e nelle ore notturne. Ancora una volta sarebbe la velocità sostenuta la principale causa degli incidenti.